Pronto per la riunione? Sì! Stendili tutti, ok? Ti richiamo dopo! Sai cosa voglio fare? Voglio togliermi i vestiti e... Perché non sei al lavoro, George? Oh, non te l'ho detto, sono stato licenziato. Quando ci risolleveremo, torneremo a New York, ma ora mio fratello mi ha offerto un lavoro e Atlanta è il posto migliore. Ehi, fratellone! Dov'è la tua valigia di cartone linda, mio Dio? Hai un corpo allucinante! Rick, stai mettendo tutti in imbarazio. Sapete che scherzo? Devi solo inserire dei dati. Tu vuoi che inserisca dei dati? Non ti sta bene? Non mi importa. Dici sul serio? Dico sul serio? Sei licenziato? Sei riassunto? E questo è un avvertimento? Andiamocene via di qui! Ok, non ce la faccio più a stare in auto. Elysium Bed and Breakfast. Cercate il B&B? Lo troverete a mezzo miglio più avanti! Scappiamo? Sì. Aspettate, dove andate? Sì, stai andando! Sì, stai andando a nostra morte! Sì, stai andando a nostra pelle! Oh, mio Dio! State bene? Starete da noi, io mi chiamo Wayne, sono un nudista. Ah sì, avevamo già notato il tuo pene. Forse! Loro vivono qui, questa è una comunità. È una comunità intenzionale, non siamo degli hippie che se ne stanno a suonare la chitarra. Afferra la mammella alla base, tira la bene verso il basso e poi premi la punta. Cosa? Premi la punta, premi la punta. Benvenuti nella comunità Elysium! Non abbiamo alcun vincolo, resteremo un mese. Due settimane. Ciao, George. Mi piaci molto. Anche tu mi piaci, Eva. Dovremmo fare sesso qualche volta. Che ne pensate, tu e Linda? Oh, ah... Questo posto è incredibile. Sento di far parte di qualcosa che è reale. Cos'è questo? Aiwaska tea. Puzza come la cacca di gatto. La proprietà allucinabile. Posso volare! Non puoi volare! I believe I can fly! Se vuoi prendere alla lettera una canzone di R. Kelly, dai, scegli Trapped in the Closet! Nudi e felici! Avanti, non mi scandalizzo. Beh, ti dispiace se magari ne parliamo più tardi? Prendi il tuo tempo.